E' capitato a molti di imbattersi durante un'escursione marina nella danza di uno o più delfini. Esperienza non inusuale vista la socialità di questi animali, ma che desta sempre stupore e meraviglia. Ma vanno come treni, è bellissimo! Oggi tutto il mondo celebra questi aggraziati e veloci abitanti del mare tra i più simpatici e comunicativi, tanto da essere utilizzati per la pet therapy in una giornata istituita dall'ONU allo scopo di ricordarne l'importanza per l'ecosistema, ma anche le tante fragilità. Se molte specie degli oceani, come il delfino di Maui o la Vachita, sono a rischio estinzione anche sulle nostre coste, il delfino comune va tutelato? Tra i pericoli principali, le interazioni dei delfini con la pesca, è il cosiddetto by-catch, ovvero la cattura accidentale che si verifica quando i cetacei, seguendo i pescherecci, finiscono per ferirsi con i componenti delle reti o ne rimangono impigliati. Per questo, tra gli obiettivi della giornata mondiale dei delfini, vi è anche quello di sensibilizzare i pescatori, da un lato perché forniscano le reti di dissuasori evitando incidenti, e anche i naviganti comuni, perché in caso di avvistamento di un delfino spiaggiato o in difficoltà, lo segnalino alle autorità. Un modo per garantire a loro la sopravvivenza e a noi umani l'eterna emozione di un incontro a sorpresa.